Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Abbiamo appena svolto lo stage X1, adesso invece dobbiamo andare a completare lo stage X2. Power level richiesto di 140, che è molto elevato per quanto riguarda i nostri standard, ma dipende ovviamente qual è il vostro range di investimento all'interno del gioco, dovreste in un qualche modo anche riuscire a permettervi una soluzione del genere. Andiamo a vedere qual è il mio setup. Il mio setup è fondamentalmente lo stesso, quindi non cambia il setup rispetto allo stage X1, che se non avete visto vi consiglio di andare a guardare perché vi spiego praticamente tutto il setup lì, in quel video. Mentre invece l'unica cosa che ho cambiato su Sephiroth è la sua arma secondaria. Infatti come potete notare ho rimesso la Onibi in modo tale che Sephiroth mi faccia danni costanti durante tutte le fasi del combattimento, essendo comunque il mio DPS più forte in questo caso, mi continuerà a fare danni continui durante tutte le fasi, mentre invece con Aeris e Cloud cercherò di mitigare la situazione, curando, proteggendo, spaccando sigilli, eccetera eccetera. Quindi farò praticamente una sorta di gestione con Aeris e Cloud, mentre invece Sephiroth giocherà da solo per fare solo danni. Andiamo a vedere che cosa vuol dire tutto ciò. E qui bisogna fare molta attenzione, perché a differenza dello stage X1, qui Sephiroth praticamente sarà buffato fin da subito. Quindi bisogna fare veramente, veramente attenzione. Allora, cominciamo con caricare ovviamente i nostri ATB. L'unica cosa che dobbiamo fare con Aeris durante la prima fase è cura. Cura e basta. Possiamo resistere agli attacchi di Sephiroth. I nostri personaggi faranno danni da soli, quindi noi non dovremo assolutamente preoccuparci di nulla. Il nostro obiettivo è mantenere tutti full, praticamente, mantenere tutti full vita. Quindi iniziamo a difendere tutti. Ora spero di un secondo mettere, ecco qua. Eh, non ci sono arrivato. Mannaglia la buttanella. Speriamo che sopravviva. Eh, mi sa di no. Sì, sopravvive per un pelo incredibile. Qui adesso la cosa che dobbiamo fare è curare subito. E letteralmente curare. Ora qua mi conviene restare in difesa perché sennò mi shotta Sephiroth. Ecco qua. Adesso possiamo riswitchare. E adesso cura nuovamente. Una volta raggiunto i 2000 HP, bene o male possiamo... Possiamo breccare, possiamo dedicarci al break di Sephiroth. Ora qui cercate di resistere il più che potete. Dobbiamo breccare il prima possibile Sephiroth. Quindi spero di poterlo breccare. È ok, ce l'abbiamo fatta. E qui adesso con Eris curiamo. E con gli altri danni. Con gli altri danni come se non ci fosse un domani, letteralmente. Quindi qua ripulliamo tutti. Qui resistiamo. Possiamo andare avanti, non è un problema. Tanto con Eris la cura ci permette di ripullarci. Quindi siamo a posto. Iniziamo a mettere qualche barrier di qua e lì. Ok. Ora qui lui prende l'ice resist down. E questo è ottimo. Perché qui Sephiroth adesso può dare sfogo a tutta la sua abilità. E qui baffiamo. Questa è la fase dove adesso si rusha. Quindi con Eris fungiamo. Sephiroth lo baffiamo tramite la limit. Cloud facciamo danni tramite la limit. E qui adesso il nostro cavallo di battaglia sarà Sephiroth. Che farà molti più danni rispetto al normale. Quindi se potete baffatelo più che potete. Io nel frattempo continuo a rompere i sigilli con gli altri. E invece Sephiroth come potete notare. Boom. Inizia a fare dei bei danni. Una volta breccato ragazzi. Qui è finita. Qui è letteralmente finita. Se avete... Se avete... Blizzard Blow o comunque tutto... Tutto a tema ghiaccio. Sparate tutto quello che avete. Ecco. Secondo Octaslash. Che però noi riusciamo praticamente a interrompere prima. Almeno spero. Penso di sì. Sei frotto? Ci arriva giusto giusto? Sì. Quindi interrompiamo il secondo Octaslash. E non lo riesce neanche a fare. Quindi questa è la chiave per riuscire ovviamente ad avere un buon risultato. È ovvio che io avendo Sephiroth più pompato. Più... Tra l'altro ho fatto anche nuovo record. Senza neanche volerlo. Avendo Sephiroth comunque più pompato. Ed essendo anche più forte diciamo dal punto di vista ghiaccio. Perché ho l'arma sua portata a livello rosa. Ho fatto più danni. Ma anche comunque avere un Sephiroth. E con le sue armi normali. Vi consente di avere un ottimo risultato. Vi consentirà di avere un ottimo risultato. Soprattutto se avete la Onibi. Che gli consente di aumentare l'attacco magico. E nel mentre Sephiroth è buffato dalla Onibi. Fate la sua limit. Per raggiungere i tre livelli di buff magico. E renderlo praticamente un toro. E permettere comunque di fare buoni danni. Anche senza necessariamente avere le armi super maxate. E' ovvio che se avete le armi super maxate. Il risultato sarà più efficiente. Nell'eventualità invece doveste subire il secondo Octa Slash. Perché purtroppo potrebbe succedere. Dovete pregare. Dovete pregare che targhetti o Cloud. O in questo caso Eris. Per mitigare un pochettino il danno. E riuscire. Se potete rushare. Così come abbiamo fatto anche noi col Tom Barry. Se vi ricordate. Praticamente rushare la parte finale. E a dedicarvi solo all'attacco. Senza praticamente più preoccuparvi della difesa. Senza più preoccuparvi delle cure. E tentare di rushare la parte finale. Se non riuscite comunque a far scendere di tanto gli HP di Sephiroth. Durante la prima fase. Equipaggiate a Sephiroth la sua arma dell'evento. Che comunque vi da almeno una difesa di livello 2. E vi permette di poter resistere a qualche colpo in più. Però al tempo stesso cercate di portare anche gli HP dei vostri personaggi. Oltre i 4.500. Se riuscite. In modo tale da avere comunque la possibilità di curarvi con calma. E fare qualche danno in più. Ok? Questi sono gli unici consigli che mi sento di darvi. Perché altre strategie si possono fare con altri personaggi. Ma io purtroppo non ce li ho. Quindi io vi posso far vedere quello che posso fare con quello che ho. E dato che quello che ho al momento è questo. Vi faccio vedere questo. Però fondamentalmente la strategia è quella. È molto simile anche a quelle che vedrete in giro. Detto ciò non ho altro da aggiungere. Se vi interessano i vari setup dei personaggi. Vi ricordo di guardarvi il primo video della risoluzione Stage X1. Che comunque è già uscito sul canale. E quindi avere la possibilità di controllare i setup. Vedere quali sono i vostri. E poi decidere quale utilizzare per affrontare il vostro avversario. Detto ciò io vi ringrazio per essere stati con me. Spero che il video possa esservi stato utile. Io vi aspetto come sempre con un prossimo appuntamento qui sul canale YouTube. E non vi dimenticate anche di iscrivervi agli altri social che trovate tutti in descrizione. Bye bye!